Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video. In questo video andiamo a vedere come trasferire dei titoli da DeGiro, broker olandese, a Directa, broker italiano. Come vedremo all'interno del video, il procedimento è piuttosto semplice, anche se in realtà richiederà diverse settimane per essere completato. Io al momento sono all'interno del processo di trasferimento titoli, non da DeGiro a Directa, ma piuttosto da Directa a Interactive Brokers. In uno dei miei prossimi video vi parlerò proprio di questo procedimento. Non indugiamo oltre, sigla e iniziamo. Prima di iniziare, se sei nuovo sul canale, mi chiamo Leonardo, parlo di finanza personale, investimenti e business. Su questo canale da oltre 4 anni. Se ti interessano gli argomenti, ti invito ad iscriverti e attivare la campana di notifica per non perderti nessuno dei miei prossimi video. Che cos'è il trasferimento titoli? Se noi ad esempio possediamo su DeGiro 70 azioni Apple e vorremmo avere quelle azioni su Directa, possiamo fare il trasferimento dei titoli da un broker all'altro. E generalmente questo processo è permesso da tutti i broker, anzi in realtà credo che a livello di legge sia permesso obbligatoriamente da parte di un broker. Alcuni broker applicano dei costi per trasferire titoli da un altro broker al broker stesso. E per ogni broker ci potrebbero essere dei costi sia per prendere i titoli dal broker stesso e trasferirli ad un altro broker, che per prendere i titoli da un altro broker e trasferirli al broker stesso. Quindi il consiglio che vi do è quello di informarvi sui costi relativi al trasferimento titoli in entrata e in uscita. Iniziamo a vedere quindi qual è la procedura di passaggio dei titoli da DeGiro a Directa. E per iniziare ho deciso di mostrarvi questa pagina dell'Help Desk di DeGiro. Andando a leggere la guida di DeGiro, come trasferire il mio portafoglio DeGiro ad un altro broker. Proprio ciò di cui stavo parlando poco fa. E è questo l'argomento del video. Sì, puoi trasferire il tuo portafoglio per su un altro broker, quindi DeGiro permette di farlo. Ecco che bisogna compilare il modulo di trasferimento che vediamo tra pochissimo in uscita e inviarlo a transfers-de-giro.it Quindi questa è la mail alla quale dobbiamo andare a inviare il modulo di trasferimento che vogliamo tra pochissimo. E una volta fatto questo, la procedura prosegue. Per le commissioni DeGiro bisogna fare riferimento al tariffario. Se non volete andare a vedere il tariffario, ho fatto un video poco tempo fa nel quale parlo dei nuovi costi di DeGiro dal 15 maggio. E all'interno di questa guida si fa notare che ci sono costi esterni per il trasferimento di una posizione. Quindi questi costi non dipendono dal broker, ma magari dipendono dalla borsa del titolo. Se acquistiamo Apple sulla borsa di Milano, ci saranno dei costi relativi alla borsa di Milano. Se acquistiamo Apple nel Nasdaq, ad esempio, ci saranno dei costi relativi al trasferimento dovuti al Nasdaq. Quindi se vogliamo conoscere le tariffe esatte, io non le conosco personalmente, dobbiamo rivolgersi al service desk di DeGiro ovviamente. Una nota importante è che sottolinea anche DeGiro, il proprietario del conto da cui vengono inviate le posizioni deve essere lo stesso del conto su cui vengono ricevute le posizioni. Quindi non possiamo fare un trasferimento titoli da il conto di una persona al conto di un'altra persona. Devono essere la stessa entità, la stessa persona o la stessa società. Quindi la procedura, come potete vedere, lato DeGiro è piuttosto semplice. Basta andare a compilare il modulo di trasferimento che è questo qui. Quindi, molto semplicemente, trasferimento del portafoglio da DeGiro. In questo caso è riportata la mail transfer, schiocciola, deGiro.it e bisognerebbe includere anche una prova di proprietà del conto presso l'altra banca. In questo caso, se facciamo il confronto con Directa, non sarà una banca ma sarà una SIM. Si parla inoltre di un periodo di attesa. Io tecnicamente non sono a conoscenza di periodi di attesa unici, quindi alcune volte un mese, alcune volte anche due mesi per completare il trasferimento titoli. A questo punto bisogna compilare la tabella ed è tutto molto semplice. Quindi, nome del prodotto, posizione, ok, questo è semplicemente un numero che aumenta per ogni posizione. Nome del prodotto, ad esempio Apple. Isin dobbiamo trovare, l'isin delle azioni Apple, se possediamo azioni Apple, oppure l'isin delle nostre azioni, la quantità di azioni da trasferire e la borsa relativa alle azioni. Credito sui titoli da trasferire. In questo caso, per avere maggiori dettagli, vi consiglio di contattare l'assistenza di DeGiro direttamente. Ci sono i dettagli dell'account di DeGiro, quindi il nostro username, nome intero, e se c'è un conto cointestato, inserire anche il nome del cointestatario. Poi bisogna inserire i dettagli del conto che riceverà i titoli, in questo caso sarà Directa, SIM, numero di conto, qualcosa, nome completo del cointestatario, che deve essere lo stesso di DeGiro. L'indirizzo email della controparte è importante, perché in questo caso ci sarà un indirizzo email di Directa, e tra pochissimo, quando vediamo la parte su Directa, sarà da inserire quell'indirizzo email. In questa sezione, il paese di residenza del conto sarà Italia, in questo caso. Qui ci sono delle informazioni molto interessanti. In generale, occorrono dalle 4 alle 6 settimane per completare un trasferimento. Questo significa che si va da un mese di tempo ad almeno un mese e mezzo. In questo caso le commissioni per posizione sono pari a 10 euro più i costi esterni, ma come ho mostrato nel video di confronto delle nuove commissioni di DeGiro, questo costo non sarà più presente per quanto riguarda DeGiro, quindi i trasferimenti da e verso DeGiro saranno gratuiti dal 15 maggio 2023. E poi ci sono dei costi relativi alla borsa. Quindi la borsa tedesca ha un costo di 18 euro, Euronext ha un costo di 18 euro, ovviamente ci sono dei costi esterni. Non so se nel tariffare aggiornato, parlando di costo gratuito, DeGiro assorbirà anche questo costo relativo alla borsa esterna. Lo scopriremo vivendo. In fondo bisogna inserire la data, la firma del titolare, e poi dopo averlo firmato, stampandolo, inviare il PDF scannerizzato a transfer.degiro.it. Quindi per quanto riguarda la procedura di trasferimento titoli da DeGiro a un qualsiasi altro broker, la procedura è piuttosto semplice. Compilare il modulo, inviarlo a DeGiro e attendere. Passiamo adesso alla seconda parte del video, ovvero la parte relativa a Directa. Quando vogliamo trasferire dei titoli da un altro broker a Directa, Directa ci impone di seguire una certa procedura. In questo video vi mostro come fare. Anche in questo caso andiamo nell'appdesk, nel FAQ, chiamatele come volete, di Directa, e qui c'è una sezione chiamata proprio come posso trasferire i miei titoli da un conto bancario al conto diretta e viceversa. Quindi noi consideriamo in questo caso il conto diretta come il ricevente dei titoli, ma c'è anche la procedura ovviamente inversa, trasferire da Directa a un altro conto. Per trasferire i titoli da un tuo deposito bancario, ovviamente qui parliamo di trasferire dei titoli da un conto esterno a Directa. Anche DeGiro ha un conto, una società che detiene i titoli di tutti gli investitori di DeGiro. Queste società non hanno uno scopo commerciale, ma hanno semplicemente lo scopo di detenere tutti i titoli presenti all'interno di DeGiro. Quindi se vogliamo la banca che detiene i titoli per DeGiro è quella alla quale fa riferimento deposito bancario, ma in questo caso può essere anche DeGiro. Qui si parla di titoli italiani e seguire la normale procedura prevista dalla tua banca. Quindi qui siamo all'interno del mio conto titoli Directa, andando qui nella sezione il mio conto, sotto si trova un punto che in questo caso è U, quindi trasferimento e giro conto titoli. A questo punto possiamo fare un trasferimento verso Directa, un trasferimento verso l'esterno. In questo caso vogliamo fare un trasferimento verso Directa. e queste sono le informazioni che dobbiamo dare ad esempio a DeGiro in fase di compilazione del modulo di trasferimento. Quindi il numero di conto sarà questo, Directa SIM sarà da andare a inserire come vi dicevo prima all'interno del nome della banca ricevente, quindi se vogliamo proprio andare a prendere il nome dell'istituto finanziario, eccolo qui, numero di conto, nome completo dell'intestatario e così via. Per i titoli esteri, come potete vedere, questo backoffice-directa.it è l'indirizzo email che DeGiro deve andare a contattare, quindi questo campo sarà compilato nel caso di Directa con backoffice-directa.it, proprio l'indirizzo email che vedete qui. Questo procedimento è più semplice per quanto riguarda istituti italiani, lo scambio di titoli per istituti italiani, che hanno delle procedure standard e che fanno riferimento allo stesso set di leggi e regi, mentre tra un broker estero e un broker italiano la procedura è leggermente più complessa e i due broker si devono mettere in contatto tramite, in questo caso, mail. In definitiva, quello che dobbiamo fare, lato Directa, è andare a inserire questi dati che troviamo nel nostro conto Directa all'interno di questi campi e automaticamente DeGiro provvederà a contattare questa email che abbiamo inserito noi all'interno del modulo per completare la procedura di trasferimento titoli. Come potete vedere, Directa prevede la possibilità di completare un documento di trasferimento dei titoli dove più o meno ci sono le stesse informazioni presenti all'interno del conto DeGiro. Ovviamente DeGiro utilizza il proprio modulo con le proprie informazioni delle quali ha bisogno per completare la procedura e quindi non avremo bisogno di questo modulo Directa da inviare a DeGiro. Quindi la guida è piuttosto semplice per i titoli esteri l'intermediario deve mettersi in contatto con il backoffice Directa viene in direzione mail sempre quello backoffice-directa.it fornendo l'elenco di strumenti e la piazza su cui potete effettuare il trasferimento. Quindi si mettono d'accordo i broker e completano loro autonomamente la procedura. Questi sono gli step necessari per completare il trasferimento titoli da DeGiro a un'altra banca ad esempio in questo video ho utilizzato Directa e sono anche gli step che se vogliamo possiamo utilizzare per trasferire i titoli da un altro broker a Directa. In realtà sarebbe più corretto parlare di trasferimento da DeGiro a Directa perché i dati di Directa li dobbiamo andare a inserire in DeGiro ma non pensate che le procedure di trasferimento titoli per altri broker che si possono utilizzare a livello europeo siano troppo differenti da questa procedura che vi ho appena mostrato all'interno del video. Questo video finisce qui fatemi sapere se avete dei commenti o delle domande lasciando un commento sotto a questo video se il video vi è piaciuto e vi è stato utile un like è molto importante per supportare il mio lavoro e questo canale noi ci vediamo al prossimo video grazie mille per aver guardato buon investimento grazie a tutti Grazie.